Ci lasciamo alle spalle un sacco di lavori ancora non finiti, proprio in occasione di questi 150 anni, una memoria ancora da costruire sicuramente, alcuni momenti della nostra memoria che dobbiamo recuperare e mettere lì fissati, stabiliti almeno nei fatti per poi poterci discutere e costruire qualcosa, un immaginario anche del nostro passato che ci manca, per cui ci ritroviamo a scrivere magari libri o a girare film su argomenti che dovremmo avere in testa immediatamente e invece a noi sembrano il far west, quanto sono lontani. Questo è quello che ci lasciamo dietro e quindi quello che ci troviamo nel futuro, tutto questo lavoro da fare. Io sono ottimista e mi immagino che ci sarà un'Italia, sarà un'Italia diversa da questa perché sarà un'Italia che sarà per forza cresciuta, sarà un'Italia con tante facce diverse ma in maniera molto armonica e molto bella e divertente, tanti colori diversi e sarà un'Italia che sarà messa d'accordo perlomeno su quelle 4 o 5 cose fondamentali, io mi immagino quest'Italia qua. All'Italia e gli italiani, a tutti noi, io argono 150 di questi giorni, come si dice, non 1000 di questi giorni, andiamo avanti.